Con Enzo Morelli qui a Olio Officina 2024, dove abbiamo potuto ammirare molte sue opere, tutte dedicate, se abbiamo visto bene, ai muretti a secco. Sì, perché i muretti a secco ormai sono patrimonio dell'umanità, rappresenta un po' la nostra Puglia e io sono legato alla Puglia, al mio territorio, per cui ci tengo a valorizzarlo dal meglio. Lei ha fatto anche altre opere legate ad altri aspetti della Puglia, ce ne vuole parlare? I simboli sono l'ulivo e i muretti a secco. Già due anni fa a Olio Officina c'è stato i racconti di ulivo e si è sviluppato in tre fasi. Nell'82 è nato Totem Ulivo, che era un po' la sacralità dell'ulivo. Poi, nell'89, è nato Ulivo e poesia. Ho messo insieme diversi poeti pugliesi, Raffaele Niro, Alino Angiuli, eccetera, che hanno scritto delle poesie legate all'ulivo. La terza fase è stata il racconto di ulivo, l'umanità dell'ulivo, cioè l'uomo ulivo con tutti i suoi sogni, le sue preoccupazioni.